Zaccaria, lei tra l'altro viene da una piazza strapiena a Roma, piazza Santi Apostoli, dove si sono riunite le opposizioni contro non solo il premierato ma anche l'autonomia differenziata, le aggressioni in Parlamento. Adesso poi ci arriviamo, però chiedo a lei costituzionalista, siccome insieme a 180 suoi colleghi avete firmato un appello per sostenere la senatrice a vita Liliana Segre, che a proposito del premierato ha detto che è una riforma allarmante tanto da non poter tacere. Travaglio ha detto che si rischia una svolta autoritaria, perché? Non è più democratico poter scegliere direttamente il proprio Presidente del Consiglio? No, non lo è. Prima di tutto il fatto che 180 sono diventati quasi 190, mentre noi stiamo parlando, costituzionalisti, non facciano un appello su un testo sottoscritto da loro ma accodandosi, mettendosi a fianco di Liliana Segre. Io non so se la telecamera può inquadrare il quarto Stato, immaginiamo davanti a tutti Liliana Segre. Noi abbiamo voluto questa volta, in maniera inusitata, mettersi a fianco di Liliana Segre, che ha fatto un discorso non tecnico ma certamente molto apprezzabile, dove il punto centrale è uno solo, democrazia è rappresentanza e naturalmente democrazia è anche evitare la concentrazione senza i contrappesi. Il dominio di un uomo solo al comando, l'ha detto molto bene Travaglio, è concentrazione, è molto pericolosa perché sostanzialmente non ci sono i bilanciamenti. Quindi io voglio anche aggiungere che se noi sommiamo potere legislativo in mano al Premier, potere estero, perché i trattati vengono fatti dalla Premier, il potere praticamente amministrativo che ha, i DPCM, se noi mettiamo tutto quello che già ha, il fatto che il Parlamento non batta più palla, questo significa aggiungere anche, tra qualche giorno vogliono nominare direttamente il vertice della RAI, il potere informativo, un altro possibile contrappeso. Cosa succederà? Che verrà eletto un Parlamento al traino della Presidente del Consiglio e questo Parlamento potrà, diciamo di conseguenza, scegliere anche il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica sarà scelto, dopo la sesta votazione, dal 51% e naturalmente viene a discesa la Corte Costituzionale condizionata, il CSM e tutto quello che è nelle mani del Presidente della Repubblica. E la riforma della giustizia, come ricordiamo e abbiamo spiegato anche qui in questa trasmissione, è in corso d'opera, che è un altro tassello. Quindi questa è la concentrazione, mentre noi abbiamo bisogno di un Paese che abbia pluralismo, la parola è pluralismo. Allora, Mario Secchi, prendevi no.